Ringrazio deputato Marchi. Allora questo era l'ultimo iscritto. Avverto che sono state presentate le risoluzioni Cariello ed altri numero 640, Marchi, Tancredi, Fautilli, Librandi, Di Gioia, Alfreider numero 641, Rizzetto ed altri numero 642, Escotto ed altri numero 643 che sono in distribuzione. E allora invito ora il rappresentante del Governo, il sottosegretario Zanetti, a dichiarare quale risoluzione intende accettare atteso che a norma dell'articolo 118 bis comma 2 del regolamento verrà posta in votazione per prima la risoluzione accettata dal Governo che in caso di approvazione precluderà tutte le altre. Prego. Grazie Presidente. Il Governo dà parere favorevole alla risoluzione 141 a firma di Marchi e altri. 140? 141? Va bene. Ok, 641, d'accordo. Va bene. Allora passiamo ai voti. A questo punto pongo in votazione la risoluzione Marchi, Tancredi, Fautilli, Librandi, Di Gioia, Alfreider numero 641, accettata dal Governo. Dichiaro aperta la votazione. Bolognesi. Bolognesi. Dell'Ai. Dall'Osso. Dall'Osso. Allora chi altro? Dall'Osso ancora. Pastorelli. Santelli. Santelli. Come siamo? Dall'Osso ha votato, Santelli ha votato, si siamo, hanno votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 273, contrarie 128, la Camera approva. Allora sono... Allora sono...